Con la diffusione del digitale, il telemarketing pubblicitario è diventato il mezzo di promozione più utilizzato dagli operatori telefonici. Nel tempo, però, questa pratica è diventata sempre più invasiva per i cittadini. Coloro che non desiderano ricevere chiamate promozionali o commerciali possono tutelare la propria privacy ed esprimere il diritto d'opposizione al telemarketing attraverso il registro pubblico delle opposizioni. Dal 27 luglio 2022, inoltre, è stata estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione nel registro, già prevista per il telefono fisso e l'indirizzo postale, annullando così i consensi all'utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria. La registrazione è un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini, che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall'operatore di telemarketing, a meno che quest'ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all'utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione, oppure nell'ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni. L'iscrizione nel registro è semplice, basta compilare un apposito modulo elettronico sul sito del registro pubblico delle opposizioni, oppure telefonando al numero verde 800 957 666 per le utenze fisse o allo 06 42 98 64 11 per i cellulari. Gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema e a comunicare preventivamente al gestore del registro le liste dei numeri che intendono contattare. Queste liste saranno restituite dal gestore entro le 24 ore dalla richiesta, prive delle numerazioni dei cittadini che si sono iscritti al servizio opponendosi alla pubblicità telefonica e avranno validità di 15 giorni.